Cantico 18 Come pianta di rose su un torrente Siraci del capitolo 39, versetto 13 Ascoltatemi, figli santi, crescite come una pianta di rose su un torrente. Come incenso spandete un buon profumo, fate fiorire fiori come il giglio. Spandete profumo, intonate un canto di lode, benedite il Signore per tutte le sue opere. Magnificate il suo nome, proclamate le sue lodi con i vostri canti e le vostre cetre. Così direte nella vostra lode quanto sono magnifiche tutte le opere del Signore. Dio Santo, Dio Forte, Dio Immortale, abbi pietà di noi e del mondo intero. Stolto è chi non si rende conto che non adorando Dio adorerà Satana. Ho visto un dirigente scolastico e i presidi. Andare una signora con tutti gli amuleti, portafortuna, di tutte le specie e le qualità sul polseco, non ci si rende conto che la superstizione e l'oroscopo è una forma di religione alternativa. Il negativo rispetto alla religione del negativo. Pace e gioia a tutti.